ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi carim per favore devo registrare non urlare ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi un video in cui vi mostro gli acquisti fatti nell'ultimo periodo non sono tantissime cose rispetto ai miei standard perché in realtà mi sto tenendo buona per la settimana dopo pasqua in cui sarò in ferie e chiaramente si prevedono danni perché lì avrò appunto il tempo di girare fisicamente per i negozi e lì scappano più acquisti perché ultimamente devo dire che preferisco acquistare fisicamente piuttosto che online poi chiaramente qualche ordine online ci scappa sempre però preferisco acquistare fisicamente e devo dire che in questo modo si fanno anche acquisti più mirati perché si evita di aggiungere nel carrello prodotti che non servono solo per raggiungere le spese di spedizione quindi sono acquisti comunque molto mirati fatti in giro ci sono cose di parafarmacia quindi skin care viso corpo prodotti che si possono trovare nella grande distribuzione e poi un ordine come avrete letto visto dalla copertina un ordine da sephora dove ho acquistato tre palette di queste due le desideravo da una vita le avevo wish list sono passate in sconto per cui non ho saputo resistere nonostante mi ero ripromessa di non fare più ordini su sephora.it dopo la disavventura che mi era capitata al black friday in cui mi avevano annullato l'ordine però questo è un brand che si trova solo su sephora e su pochi altri siti qui passava il sconto per cui ho ceduto però non voglio diciamo limitarli il più possibile questi ordini sul sito di sephora online perché non mi è piaciuto per niente il comportamento che hanno avuto al black friday comincio a farvi vedere i prodotti che ho messo sul tavolo tanto non sono tantissime le ho divisi per categoria corpo capelli skin care body care cavolatine varie prese qua e la comincio con le cavolatine varie prese qua e la nei miei giri tigota saponeria man mano vi dico dove le ho presi allora e ieri mi sono presa queste strisce depilatorie della vet easy gel queste le ho trovate all'ipercop in sconto a 2 euro e 70 mi sembra che sia un buon prezzo perché a presso intero costano di più le ho prese perché adesso chiaramente tra un po cominceremo a metterci le maniche corte io le uso principalmente per le braccia mi depilo con queste con le braccia mi trovo benissimo con le strisce depilatorie in generale queste mi sembra che le avevo già acquistate e mi ero trovata bene adesso non vorrei dire una cavolata perché a volte non presto tanta attenzione a queste cose e comunque vet è un brand per quanto riguarda la depilazione che mi dà sempre ottima garanzia infatti la mia crema depilatoria perché le gambe comunque me le depilo con la crema depilatoria preferite in assoluto è la vet per pelli sensibili e quindi ho preso questo poi se sapete che uso tanto le salviettine intime per l'igiene intima perché me le porto al lavoro mi sono presa da tigota visto che erano in offerta a 99 centesimi due confezioni di queste salviettine della dermandè pur care dice 100 per cento di tessuto biodegradabile buono quindi comunque si possono gettare nel wc sono 12 qui dice salviettine intime delicate con succo di aloe ed estratto di camomilla questa è la versione delicata sono due versioni diverse e questa è la versione fresca con mentolo e timo invece quella delicata e con succo di aloe ed estratto di camomilla se non mi ricordo male ce n'era anche una terza versione forse ciclo non mi ricordo però io non avendo più il ciclo vabbè diciamo che si postevano utilizzare ugualmente però forse la terza versione di cui adesso un vuoto mi sembra ciclo non l'ho presa perché non mi aggradava in quel momento non lo so non mi ricordo poi da tigota ragazze mi sono presa qualche prodottino per le unghie per farmi la manicure perché sono molto pigra su queste cose sulla manicure è una di quelle cose che proprio detesto farmi ogni tanto vado dall'estetista o dal parrucchiere quando sono lì se c'è un estetista che mi può fare le mani però insomma insomma vorrei farmi cominciare a farmi la manicure da sola in casa anche perché io le unghie che si sfaldano facilmente il gel la ricostruzione il semi permanente me le distruggerebbero ancora di più per cui siccome non posso andare dall'estetista tutte le settimane a farmi una manicure normale vorrei cominciare a farmela da sola vediamo se ci riesco quindi mi sono presa da tigota questo arnese questo come si tra l'altro l'avevo visto anche in un video di lo giovanna lo vison come sto guardando un po di video su come si effettua la manicure da sola perché da sole per da sola perché appunto vorrei cominciare a farla e poi ho preso queste rimuovi cuticole cuticole di salien sen questo la questa tronchesina che è costata circa 11 euro mentre invece questa è costata circa 5 euro devo dire che questi aggeggi devo stare particolarmente attenta a usarli perché io le pellicine questo delle unghie questo addetta di molte estetiste che mi hanno fatto la manicure molto delicate quindi molto facilmente tagliandole mi può uscire il sangue poi appunto perché sono in vena di prodotti per manicure non volevo comprare i bastoncini d'arancio a parte perché avevo acquistato anche questo quindi questi quindi volevo diciamo vedere un attimo come mi trovavo la differenza tra i due prodotti c'era questo set della royal beauty in offerta la saponeria 3,90 con delle con vari prodotti e l'ho acquistato un set da viaggio in cui c'è una lima in acciaio una lima in cartone poi queste un'altra diciamo lima di queste rettangolari a 12 sei facce credo otto facce 1 2 3 4 5 no sei facce aiuto va bene e appunto il come si chiama la l'arnese per tagliarsi le unghie poi sempre da tigota ragazzi c'erano tutte le cose della camomilla scontate al 50 per cento chi mi segue da tempo sa che mi piace molto mi piacciono molto le cosine della camomilla anche l'anno scorso aveva acquistato gli occhiali diversi paio di occhiali quando appunto le avevo trovati da tigota in offerta al 50 per cento stavolta non ho preso gli occhiali perché comunque ne ho poi comunque gli occhiali non sono un accessorio su cui investo tanti soldi questo l'avevo già detto perché comunque in passato mi è capitato che avevo quando ero giovane più che altro quando ero più giovane quindi prima di diventare mamma acquistavo magari occhiali di barberi oppure tra virgolette firmati ra e poi li perdevo regolarmente per cui ho deciso di non investire più sugli occhiali quindi non ho comunque riacquistato altri occhiali anche se la camomilla comunque è un brand economico cioè non è come un raiban eccetera perché comunque ne ho e poi non c'era niente che mi ispirava invece mi sono presa questa piccola pochette che terrò in borsetta da permetterci quanto ci si può mettere o monete o comunque non so cose necessarie durante il giorno medicinali anche il rossetto insomma burro cacao queste cose qui come vedete qui non c'è lo sconto ma erano tutti scontati al 50 per cento quindi il prezzo intero era 18 e 90 e io l'ho pagato la metà ce n'erano di diversi tipi io ho scelto questa colorazione color bronzo con questa lavorazione e poi questo set per le unghie sempre della camomilla vedete che invece qui c'è lo sconto questo l'ho pagato 8 euro e 95 e appunto in questo set per le mani molto carino da tenere in borsetta c'è c'è un po tutto il necessaire per le mani quindi la forbicetta la il taglia unghie le limette lo spingi cuticola e anche cuticole e anche una pinzetta dai queste sono cavolatine che quando trovo in giro un pochettino così da tigota e tendo a comprare perché quando sono in sconto perché magari possono servire sono cose utility che possono essere insomma possono servire soprattutto quando si fa una vita fuori casa io faccio una vita molto molto fuori casa come sapete poi passiamo ai capelli allora per i capelli ho comprato due cavolatine perché di shampoo ne ho da smaltire shampoo balsamo trattamenti vari ne ho da smaltire per cui ho deciso di non è un periodo diciamo in cui ho particolari voglie per i capelli anche se comunque vedete ha fatto le schiariture anche se adesso sembrano pure più scuri ma non lo so e e quindi niente mi sono comprata questo shampoo secco della palette non so se qualcuno di voi l'ha provato mi faccia sapere ho preso questa versione castano scuro da utilizzare magari se devo uscire perché mi trovo bene anche con lo shampoo secco quello normale non tonalizzato diciamo però a volte rimangono dei residui voglio vedere se questo magari non mi lascia dei residui soprattutto se utilizzo lo shampoo secco e poi devo uscire anche se io è un prodotto vi dico la verità che non utilizzo spessissimo lo shampoo secco però lo tengo sempre in casa per 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 insomma per le emergenze per necessità poi mi sono voluta acquistare questa crema disciplinante che avevo visto nel canale di simona beauty passion dove lei ne parlava molto bene ed è questa crema della sun silk scintille di luci e più effetto seta della chiara nasti chiara nasti penso che sia un influencer e non la seguo sinceramente qui dice per capelli spenti e crespi è una crema si può utilizzare almeno così ho letto sia sui capelli umidi se che sui capelli asciutti io penso di utilizzarla per i capelli umidi e l'ho acquistata perché appunto da quando ho fatto la decolorazione ho le punte un pochettino le parti dove ho la decolorazione o dove ho le schiariture un pochettino più secche quindi magari per passarmele prima dell'asciugatura nelle parti più secche e poi anche perché è un prodotto che va bene anche per mio figlio questo per disciplinare i suoi ricci per chi non lo sapesse mio figlio passasse di qua per caso io ho un bambino mulatto per cui non hai rasta però ha dei ricci belli insomma è riccio bello dei ricci belli corposi per cui mi piace anche a lui fargli un pochettino di stan di styling sui capelli quando lui me lo consente però perché sapete come sono i bambini e quindi ho preso questa sono curiosa di provarla poi vi farò sapere poi passiamo ai prodotti un pochettino più interessanti a mio modo di vedere le cose cioè skin care e body care allora comincio dalla body care allora sapete che da maggio dell'anno scorso sono iscritta in palestra all'inizio facevo un po' gli esercizi in maniera blanda poi da settembre ho cominciato un percorso con un personal trainer il che non vuol dire appunto come l'ho già detta questa cosa che il personal sta vicino a me tutti i giorni ma che mi ha fatto una scheda che io faccio poi regolarmente la aggiorniamo quindi sto vedendo chiaramente dei risultati in termini di rassodamento sulla mia pelle quindi del corpo e quindi chiaramente voglio utilizzare questo è un buon periodo per utilizzare questi generi di trattamenti che da soli non farebbero niente invece appunto con un'alimentazione equilibrata e con l'attività fisica contribuiscono a appunto a migliorare la pelle del corpo e che cosa mi sono acquistata allora mi sono acquistata da tigota queste ampolle anticellulite della bio point mi incuriosiscono tantissimo anzi fatemi sapere se qualcuna di voi le approvate queste le ho prese ragazze perché le ho trovate in offerta in sconto a 16 euro circa costano di più ce ne sono dentro questo è un trattamento urto alla caffeina estratto d'uva e di semi di papavero penso che ce ne siano dentro 18 ecco qui c'è scritto poi mi piace questo fatto che sono in capsule in realtà io mi volevo comprare il trattamento la crema tonificante che è nella confezione verde di cui avevo sentito parlare la Caterina del canale l'angolo di Kate o di Kate che dir si voglia però ho visto queste quella non l'ho trovata in offerta o meglio proprio mi sembra che era finita ho trovato queste in offerta ho detto va bene prendo queste quindi poi chiaramente ve le farò le metterò in uso e vi farò sapere come mi ci trovo però come ho detto prima fatemi sapere se qualcuna di voi la provate perché appunto magari qualcuna di voi la provate mi può dare un feedback positivo o negativo speriamo positivo poi in un giorno che sono andata in una farmacia vicino dove lavoro la Lloyd's Farmacie penso che ci sia un po' in tutta Italia c'erano dei prodotti della Lirac in sconto al 50% proprio a prezzo stracciato e quindi mi sono voluta prendere questo Beaum Fondant Tonifian della Lirac l'ho pagato sui 15 euro e sono saranno 200 ml di prodotto sì sono 200 ml di prodotto questo è della linea Arche Skin qui dice nutre rassoda e rinfresca quindi adesso siccome poi comunque viene l'estate stiamo andando verso l'estate quindi pantaloncini corti in casa così ti viene anche di più da spalmarti questo genere di prodotti almeno a me fa così infatti vorrei prendere anche qualcosa in alternativa al Cryo Gel Anticellulite di Collis di cui vi ho parlato l'anno scorso che mi è piaciuto tantissimo se avete qualcosa da consigliare fatemelo sapere nei commenti quello l'ho già provato lo ricomprerei perché mi è piaciuto tantissimo però sapete che sono la tester che in me vorrebbe provare qualcos'altro quindi fatemi sapere qualcosa di quel tipo però speculare che sia un gel fresco con effetto freddo però comunque ho preso anche questo che non credo che sia effetto freddo perché mi incuriosiva poi per 15 euro l'ho voluto provare visto che era appunto in offerta poi sempre per finire per quanto riguarda il corpo il mio cruccio è sempre stato non è sempre stato da quando sono dimagrita sono state un pochettino le braccia perché la maggior perdita di tonicità dovuta al dimagrimento molto veloce che ho avuto l'ho vista sulle braccia molte persone quando ho pubblicato anche gli shorts dove facevo vedere gli outfit del giorno perché comunque mi era stato richiesto in realtà mi vergogno anche un pochettino però mi era stato richiesto ho voluto accontentare mi dicono Laura è il fisico di una ragazzina no, non ho il fisico di una ragazzina perché ragazze il fisico va visto ovviamente in costume non vestita certo, adesso sono magra sto facendo un percorso quindi chiaramente sono migliorata rispetto ai primi video che ho caricato un anno e mezzo già solo un anno fa mi sono rivista non sembro neanche più io in effetti però non ho chiaramente il fisico di una ragazzina quindi le braccia sono state la parte del fisico dove ho visto più i cedimenti dopo appunto questo dimagrimento quindi sono un po' in fissa con le braccia e mi sono voluta comprare questo trattamento perché l'ho trovato praticamente su un sito di parafarmacia mi pare che la parafarmacia si chiama San Carlo Roma qualcosa del genere sì della Rougi ed è questo trattamento dice cellulite trattamento spa criotrattamento braccia monouso praticamente sono dei patch vedete erano scontatissimi a 13,50 sono dei patch praticamente che si mettono in questo modo sulle braccia si tengono in posa 30 minuti qui dice mi sembra che questo qui è 30 minuti o 40 non ci vedo ragazze no 30 mi sembra e poi insomma vediamo chiaramente non penso che questo genere di prodotti possa fare chissà che però insomma sono in questo periodo appunto molto focalizzata sulla tonicità delle mie braccia per cui ho voluto provare questo trattamento diciamo per il corpo abbiamo finito poi vi faccio vedere cose per i trattamenti viso che ho acquistato allora un giorno che sono andata alla parafarmacia Medimarket per acquistare dei parafarmaci integratori fermenti lattici per mio figlio ho ripreso perché tra l'altro le ho trovate anche in offerta queste mascherine occhi della pivita al ginkgo biloba queste io ve ne ho già parlato sia nei prodotti finiti che nei top e flop perché questa maschera è buonissima non è particolarmente idratante ma schiarisce le occhiaie e leviga il contorno occhi proprio toglie la stanchezza al contorno occhi per cui se non l'avete provata ve la consiglio perché si trova anche in farmacia l'ho vista un po' in molti in molti posti ecco poi appunto perché quella mi era piaciuta tantissimo ho voluto provare anche questa e quindi l'ho presa questa e i mask al grape dovrebbe essere l'uva grape questa qui dice che è mask pur lisciante quindi insomma levigante dovrebbe essere una maschera levigante questa quindi un pochettino più schiarente per le occhiaie e questa un pochettino più levigante magari posso provare a fare un trattamento tipo prima questa e poi questa e vedere se il mio contorno occhi rinasce poi passiamo ai trattamenti viso allora sempre quando ho acquistato i patch della Rougi ho acquistato un altro prodotto sempre quindi sulla farmacia parafarmacia online San Carlo Roma perché erano super scontati questi prodotti allora vi ho parlato tante volte della maschera di Miamo la Oxygen Pill che mi piace tantissimo ho trovato già il dupe economico che sarebbe quella di Licia ma un pochettino più aggressiva sapete che ero alla ricerca di questo dupe della Miamo quindi cerca il che ti ricerca sul web mi sono imbattuta in questa maschera di questo brand che non mi ha mai ispirato particolarmente vi devo dire però visto che la maschera era in super 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 sconto e ho letto anche delle recensioni molto positive sul web ho deciso di dargli una chance il brand è sempre Rougi che è un brand come dicevo che non mi ha mai particolarmente attirato però stavolta visto che cercavo proprio questo prodotto specifico ho deciso di dargli una chance ecco qui la maschera allora qui vedete il prezzo intero che è 41 euro in realtà io non l'ho pagata 41 euro qui c'era il prezzo scontato non so perché l'hanno oscurato l'ho pagata sui 16 euro quindi rispetto a quella di Miamo vediamo un attimo e quella di Miamo costa a prezzo intero 40 euro anche di più questa costa così tanto ma questi prodotti appunto erano stati messi in offerta vediamo un attimo magari l'apro qui con voi così vediamo se il packaging esterno è simile a quella di all'oxygen peel di Miamo che non vi ho portato qui ma sì dovrebbe essere più o meno simile il packaging è più o meno simile vedete quella di Miamo è un pochettino più cicciotta però comunque è sempre un pack airless con il pump dosatore e sono sempre 50 ml di prodotto vedete qui ci dice Rougi Glow Tech maschera all'ossigeno attivo mi viso quindi fa le bolle e poi appunto dovrebbe sfogliare e riossigenare la pelle e niente ci aggiorniamo perché sono curiosissima di provarla ho 2-3 applicazioni ancora di quella di Miamo dopo di che inizierò questa e ne parleremo poi in farmacia nella farmacia vicino al lavoro quando ho acquistato questo prodotto di Lirac c'erano questi prodotti c'erano alcuni prodotti cofanetti in offerta e ho voluto acquistare questo cofanetto di Face D perché ragazze io ho provato sia raccollageni Face D ve ne ho parlato sia nei prodotti finiti sia nei top e flop e mi è piaciuto tantissimo per cui c'era questo cofanetto a 19,99 euro e l'ho voluto acquistare ecco il cofanetto si chiama 3pour complex plump peel and lift e ci sono praticamente dentro questo cofanetto che si può trovare online ho anche visto più o meno anche allo stesso prezzo ci sono mi sembra 13 ml di prodotto per ogni siero sono 3 sieri e da 13 ml di prodotto e c'è all'interno il pur lift e l'assine collagene che è quello che avevo provato io che mi è piaciuto tantissimo poi c'è il pur plump all'acido ialuronico perché comunque ci vuole sempre un acido ialuronico adesso sto provando quello di la Roche Posay sto usando quello di Roche Posay che ve ne ho parlato mi è piaciuto tantissimo mi ripeto per chi magari non ha visto quel video però vabbè mi piace sempre provare cose nuove anche se quello lo ricomprerò perché mi piace da matti e poi c'è anche questo trattamento Purpil agli alfa-idrossi acidi quindi dovrebbe essere acido glicolico ci dovrebbe essere contenuto l'acido glicolico dentro a me piacciono molto i trattamenti esfolianti perché ho una pelle matura sì ma mista e anche tendenzialmente asfittica che tende ad ingrigirsi per cui i trattamenti esfolianti ci vogliono sempre anche comunque in generale dopo una certa età e in questa farmacia online mi hanno dato questa crema solare di questo campioncino di questa crema solare della Corf 50 più dice protezione pelli sensibili sun repair vabbè la proveremo così sapremo anche come sono i solari della Corf ecco questi sono i trattamenti skin care body care che ho acquistato air care dopodiché ragazzi andiamo all'ordine sephora non mi hanno dato praticamente mi hanno mi hanno messo tutto dentro uno scatolone io vabbè vi faccio vedere questa bustina che ho recuperato perché in realtà adesso ho preso questa bustina perché in realtà devo fare la foto della copertina quindi l'ho presa da un vecchio ordine di sephora che avevo fatto ad ogni modo vi faccio vedere i prodotti di sephora che ho acquistato e ho acquistato tre palette due di queste le avevo in wishlist da tempo e sono delle palette di Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills è un brand che non va facilmente in sconto le ho viste passare al 25% tutte e ho detto vabbè come faccio a non fare l'ordine e mi è partito ovviamente l'ordine per quanto riguarda le palette di Anastasia Beverly Hills poi una ragazza di cui adesso mi sfugge il nome non mi ricordo palestati nei commenti cara che fa mi sembra che fa la parrucchiera che mi segue su Instagram mi aveva scritto che poi queste palette sono passate al 30% ma per una giornata poi hanno tolto tutto e io le ho beccate al 25% ma sono contenta così perché non volevo rischiare che mi annullassero un'altra volta l'ordine va bene andiamo a succo perché se no mi perdo troppo in chiacchiere di che cosa sto parlando sapete quanto amo il viola il viola è il mio colore della vita questa era una palette che io avevo visto perché non è che io seguo tanto le uscite mi era sfuggita non la conoscevo l'ho vista in un video di un canale di una ragazza che si chiama Manuela Adrian che fa è molto brava fa dei video molto professionali per quanto riguarda il make up e aveva fatto vedere questa palette nei top dell'anno 2022 e anche poi aveva fatto anche un get ready with me ragazzi me ne sono innamorata e da quel momento l'ho messa in wishlist di che cosa sto parlando una palette con tantissimi viola quindi molto sul tono del viola quindi vi deve piacere il colore vi deve stare anche bene sto parlando dell'Anastasia Beverly Hills la Norvina volume 5 questa meraviglia io non amo questi padelloni ma per questa palette ho fatto un'eccezione perché ragazzi ha dei colori che mi hanno completamente flashata vabbè questa è la scatola esterna il pack esterno è questo ovviamente non sono palette nuove ultime uscite però sono nuove per me e sono cose che desideravo per cui sono contenta Anastasia Beverly Hills Norvina Collection vedete ha questo bel il packaging è molto bello e ragazzi ha lo specchio comunque che adesso vi facciamo così perché se no vi faccio vedere che ha lo specchio ve la metto così dopodiché lo copro perché se no specchia e questa è la palette cioè io veramente me ne sono innamorata quando l'ho vista perché comunque ha sì dei viola bellissimi dei toni rosati freddi però poi ha anche dei toni nude questi doratini questo un pochettino più caldo insomma mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista e dal vivo è bellissima adesso vabbè non vi faccio degli swatch perché ho intenzione di farci comunque un get ready with me e poi quindi ve la vedremo magari in applicazione e questo è stato appunto il pezzo forte diciamo di questo ordine quindi l'ho pagata invece di 70 intorno ai 50 euro fate conto che queste palette le ho pagate un centinaio di euro e tutte e tre costano di più ovviamente poi un'altra palette che aveva un wishlist da tempo era questa la nuovo palette di Anastasia Beverly Hills sono tutte di Anastasia Beverly Hills le palette questa è una palette che mi è piaciuta tantissimo fin da quando era uscita poi vabbè non sono una che compra palette tutti i giorni per cui ho aspettato un attimo ne avevo altre magari in wishlist prima questo è il packaging molto bello esterno vabbè ve le faccio vedere velocemente perché tanto queste sono palette che sono state viste e riviste questi sono i colori c'è questo lilla che mi piace tantissimo e poi questi toni sul verde che sono proprio colori che piacciono a me anche questo mi intriga questi matt questo verde un pochettino più scuro questo invece un pochettino più sul rosato ha un mix di colori che comunque mi piace molto fatemi sapere adesso vorrei fare un Get Ready With Me o con la Norvina 5 o con questa fatemi sapere quale preferite prima e io vi accontento poi questa l'ho inserita questa quest'ultima palettina l'ho inserita semplicemente perché appunto era tutto super mega sconto l'ho pagata sui 20 euro ho detto me ne prendo anche una dai toni neutri da portarmi magari quando sono in giro in viaggio ed è questa la Glam to go mini sempre di Anastasia Beverly Hills appunto l'ho detto che ho pagato ho comprato palette di Anastasia Beverly Hills in questo ordine ecco qua questo è il pacco esterno e voglio provare insomma gli ombretti di Anastasia Beverly Hills cioè l'ordine è partita per quella viola per la Norvina 5 però poi insomma è una buona occasione per provare gli ombretti di Anastasia Beverly Hills questa eccola la palette c'è lo specchio eccola qui questa qui ha dei toni ovviamente sul nude quindi colori magari già visti però mi piaceva il formato molto tascabile io amo le palette così piccole e quindi l'ho voluta prendere per provarla anche perché costava appunto solo 20 euro ecco ragazzi ho finito questi sono stati tutti i miei acquisti sono riuscita comunque a fare un video di 30 minuti perché magari ho parlato un pochettino più approfonditamente del perché ho scelto questi prodotti fatemi sapere se i miei acquisti vi sono piaciuti e ci vediamo al prossimo haul che molto probabilmente sarà non credo magari il prossimo weekend ma nella settimana che sarò in ferie e niente io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte e a tutti